Quando si parla di digiuni superiori ai 10 giorni, bisogna porsi un'enorme domanda, che è ha senso farli? Per rispondere a questa domanda è importante distinguere tra il digiuno idrico e il digiuno secco. Infatti, un giorno di digiuno secco equivale a 3 giorni di digiuno idrico, quindi 10 giorni di digiuno secco equivale a 30 di digiuno idrico, quindi è chiaro che quando parliamo di giorni di digiuno è molto importante definire di che cosa stiamo parlando. Di solito questo tipo di digiuni è sconsigliato fare il fa-da-te perché portano il corpo a un livello tale per cui alcune persone, se non in modo controllato, in realtà potrebbero avere alterate alcune funzionalità. Tant'è che spesso si prediligono dei digiuni più brevi, magari ravvicinati tra di loro e magari alternare delle analisi in modo da valutare i parametri di funzionalità degli organi.